Il professore Angelo Valerio Marzano ha vinto la sua battaglia contro il Covid-19. Dopo 16 giorni di ricovero al sacco, il dermatologo del Policlinico, primo caso di coronavirus a Milano, è finalmente tornato a casa per affrontare l'isolamento domiciliare. Una storia a lieto fine che il professore, collegato via Skype, ci racconta con il sorriso. Sto bene, i sintomi sono completamente regrediti, quello che mi rimane è un'occasionale tossetta secca e poi quella mancanza parziale del gusto e dell'olfatto. Raccontiamo un po' la sua storia, quando è iniziato, quando ha avuto i primi sintomi e poi tutto il percorso in ospedale. Sì, la storia è iniziata in realtà in un viaggio legato alla mia attività universitaria, di professore universitario. Ero andato per un board scientifico sulle malattie infiammatorie rare a Monaco e la notte del 20 ho cominciato ad avere forti brividi. Tuttavia, il giorno successivo, con un semplice antinfiammatorio, sono riuscito a terminare questo board, a prendere l'aereo e ritornare a Milano, però verso sera hanno cominciato a manifestarsi la febbre, la tosse e il raffreddore. Il giorno successivo la febbre è salita e quindi ho pensato, anche spinto dalla mia compagna Tiziana, che non è medico, ma ha avuto un'intuizione che valesse la pena di contattare i colleghi del sacco. Io sono andato al sacco, ho eseguito il tampone, il 23 di febbraio erano, ripeto, sorpresi e mi hanno detto che io avevo rotto i criteri epidemiologici. Questo perché fino ad allora, come lei ricorda, l'infezione era rimasta confinata alla famosa zona rossa di Codogno e l'altro fattore particolare significativo di rischio era il contatto con persone provenienti dalla Cina. Quindi io avevo rotto i criteri epidemiologici, ho questo triste primato di essere stato il primo infetto al di fuori di questo circuito. Quindi in un certo senso il testimonial di quello spreading dell'infezione che poi si è avuta e che tutti purtroppo conosciamo. Quali sono stati i momenti più difficili che lei ha dovuto affrontare durante il suo ricovero? Sì, durante il mio ricovero ci sono stati due momenti dopo quello dell'aver saputo di essere positivo. Uno è stato in quinta giornata, quando la febbre è salita. A questo i colleghi hanno dato un'interpretazione che era corretta, poi è stata supportata da evidenze successive per l'esperienza che abbiamo di questa forma ed è legata alla produzione di citochine, che sono molecole infiammatorie che portano a questo rialzo febbrile. Il secondo momento brutto è stato il 4 di marzo, quando sembrava fatta, e invece appunto ancora la febbre è risalita e una lastra aveva evidenziato una polmonite interstiziale non grave, perché io per fortuna non ho mai avuto sintomi respiratori acuti, quindi per intenderci non ho mai avuto bisogno dell'ossigeno né tanto meno della ventilazione assistita. Però il polmone sembrava indenne e poi invece lieve, per fortuna, polmonite c'era. Poi per fortuna la febbre è scesa stabilmente e in data 9 di marzo ho ricontrollato l'indice di infiammazione, la PCR, che era salita molto e che invece è scesa poi bruscamente. Per fortuna la lastra era una migliorata, in quell'occasione mi è stato fatto anche un tampone che è risultato negativo e ho potuto essere dimesso appunto per isolamento domiciliare. Che terapia le è stata fatta? A me è stata fatta una terapia di associazione di due antivirali, un tempo usati nella terapia dell'AIDS, e l'idrossiclorochina, che è un antimalarico, un antinfiammatorio. Dunque i due farmaci antivirali, il Caletra per intenderci, sono stati usati perché in vitro, cioè in laboratorio, si è visto che sembrano inibire la replicazione virale di questo virus ovviamente. La cosa importante sarà ripetere al termine delle due settimane di isolamento domiciliare, il 23 e il 24 di marzo, due tamponi, nasale e faringeo, che se risulteranno negativi, come spero, si aggiungeranno a quello già negativo che ho eseguito e mi consentiranno la reintroduzione nell'ambiente lavorativo. Voglio lanciare un messaggio positivo, cioè io sono convinto che alla lunga è difficile dire quanto, quando ce la faremo, cioè io sono convinto che l'Italia ce la farà. Tra l'altro l'Italia in generale, in particolare se mi consente la regione Lombardia e la sanità della regione Lombardia, pur nelle gravi difficoltà logistiche, tecniche, eccetera, hanno dimostrato di essere da esempio, direi, per il mondo intero.